Ciao a tutti, buonasera, siamo a Gallipoli in piazza con Luca Caputo che si occupa di digital marketing. Luca, cosa ci facciamo a Gallipoli? Non lo chiedevo prima anch'io. In realtà la cosa bella è che è tutto nato da una relazione di amicizia casuale quindi ti ho invitato perché a Gallipoli si terrà, anzi è già in corso il festival giornalismo locale e credo che un po' la tematica e anche la destinazione Gallipoli abbia bisogno di capire come all'interno di una categoria che comunque ha visto cambiare anche il modo di raccontare il territorio, i social, i blog diventi un'opportunità piuttosto che una minaccia quindi con te mi piacerebbe approfondire questa tematica. Quindi domani diciamo le nostre quattro cavolate sui blog e sui social? Esatto, perfetto. No, più seriamente siamo a Gallipoli appunto per il convegno sul giornalismo locale domani parleremo di blog, proveremo ad andare a dare alcuni spunti e far capire come anche il giornalismo il modo di raccontare il territorio è cambiato grazie ai social. Un saluto a tutti e buona serata. Mi raccomando domani forse faremo un live tweeting, proveremo a fare un live tweeting. Potrebbe essere anche una fake news. Potrebbe essere anche una fake news. Buonasera a tutti. Ciao.